Ciao, in questo video preparerò una ricetta tipica dalle mie parti, come ho già detto in qualche video precedente, io sono siciliano, la pasta con le melanzane. Prima di procedere con la preparazione ti inviterei, se non l'hai già fatto, a iscriverti al mio canale e al termine del video, se la preparazione ti è piaciuta, ti inviterei a lasciarmi un like e a condividere questo video sui tuoi social. Gli ingredienti che andremo ad adoperare sono una melanzana, uno spicchio d'aglio, dei ciuffetti di prezzemolo, pan grattato, ricotta salata, peperocino rosso tritato, olio extravergine d'oliva e le penne rigate. Mettere l'acqua sul fuoco. Tritiamo finemente l'aglio, eliminiamo i gambi e tritiamo finemente. Tagliare a cubetti la melanzana. Appena l'acqua bolle, calare la pasta. In una padella aggiungere le melanzane. Aggiungere un pizzico di sale. E saltare ripetutamente. In un tegamo a parte mettere della mollica ed iniziare ad aggiustorirla. A questo punto la mollica è pronta, la possiamo ottenere da parte. Bene, una volta che la melanzana si è ridotta di volume, possiamo aggiungere l'olio. A questo punto possiamo aggiungere il prezzemolo e l'aglio. Saltiamo. Un minuto prima di fine cottura, scolare la pasta. E l'aggiungiamo in panella. Aggiungiamo la ricotta salata grattugiata. E continuiamo a saltare. Aggiungiamo il pepe rosso macinato. Infine aggiungiamo il pan grattato. E a fiamma spenta mescoliamo per amalgamare il tutto. Bene, a questo punto possiamo impiattare. Con un economo ricopriamo il tutto con scaglie di ricotta salata. Per questo video è tutto, spero che ti sia piaciuto. Ci vediamo al prossimo. Ciao!